Dalla Boker un piccolo modello Hero e un EDC fisso o per piccole escursioni. Abbiamo un fotolo in pelle, abbastanza bello, logo dietro della Boker, fotolo con porto orizzontale, doppia clip per l'estazione, anche se già aprendo una si riesce a sfilare il coltello. Il coltello come vi dicevo è un piccolo fisso, full tank logicamente, la lama sarà un pochino di 3 pollici, guancette in cocobolo con pin mosaico. La lama utilizzata è N685, come vi dicevo il modello è piccolino, sta perfetto per 3 dita, un dito rimane fuori. Si impugna abbastanza bene, ottimo per piccoli lavoretti, perfetto come coltello EDC al posto di un chiudibile. Da questo lato abbiamo il logo del costruttore, del designer, che adesso non ricordo chi sia. Coltello circa 5 mm di spessore, ottimo quindi anche per fare leva, per utilizzarlo per aprire una, tagliare una mela, qualcosa da mangiare, ma anche per tagliare pezzetti di regno o quant'altro. Si può usare anche in press and reverse, in questo caso arriva preciso alle 4 dita. E' comunque un modellino da utilizzare al posto di un chiudibile, in caso di escursioni, piccole escursioni. Fiditure sono abbastanza buone, come quelli modelli della Boker, inoltre non è un modello molto costoso. Boker e Rho Grazie a tutti.